Allora, buongiorno di nuovo, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del film Camping du Lac di Eleonore Saint-Agnon, che abbiamo il piacere qui di accogliere. Il film è stato selezionato in concorso internazionale lungometraggi ed è un'anteprima italiana. Ha avuto la sua prima mondiale al Festival di Locarno adesso ad agosto nella sezione Cineasti del Presente, dove ha ottenuto il premio speciale della giuria Cineplus e il premio della giuria giovane. Ha già partecipato a diversi altri festival e è un film prodotto da Michigan Film, che è una produzione belga, in coproduzione con Emmanuel Chomé, che ha anche in carico le vendite. È stato prodotto con il sostegno del Centro Nazionale del Cinema belga e sostanzialmente è una produzione interamente belga. e Eleonore, faccio qualche domanda prima di passare la parola al pubblico. Lei è artista plastica inizialmente, poi si sposta nel mondo del reale, diciamo, fuori però appunto da musei, performance, e inizia a filmare dei retratti di performance attorno a sé. E poi estende queste riprese anche a chi è più vicino a lei nella sua vita, giusto? Vado bene? Vi corregge se sbaglio? E dopo alcuni cortometraggi arriva a questo lungo, in cui sembra trovare proprio un nuovo piacere di narrazione, cioè un nuovo piacere di racconto. Mi sembra che il racconto è qualcosa di nuovo nel suo percorso artistico. Ovviamente intendiamo racconto rispetto a qualcosa di... alle forme che ha utilizzato fino adesso. È una scoperta anche per lei il fatto di narrare come l'ha fatto in questo film? Rispetto a quello che ha fatto fino adesso? Allora, vostre question m'amuse molto, perché, quindi, effettivamente, io vieno dei arti plastiche, e in le arti plastiche, on mi ha sempre detto che, comunque, per una plasticiena, c'era un lavoro molto narrativo. C'è per questo che, a la fine delle mie studi di arti plastiche, in realtà, io mi sono inscrita in una scoperta di cinese documentale, e ho orientato i miei studiati più tanti al cinema. Per riferire a questo film, il ha stato prodotto con l'aide del CNC belge, che è una scoperta di produzione leggera. C'era un po' una maniera di direi, che faccio un po' di classe nel cinema, che ci sono una aiutichate a dei ragazzi che hanno uno premato un primo film, o che vogliono fare un film un po' expensativo, e che hanno un problema a scrivere un scenario classico, per passare in dei commissioni più classiche. Io penso che ciò mi ha dato, per base di un scenario, ma anche su base di mio lavoro precedente che era un lavoro di plastica, quindi di videoste che consista essenzialmente a fare dei portati di persone, di comunità, quindi di maniera più documentata. Ma mio film precedente, che è stato un giocatore, una figlia di Wesson, è già un film per il cui ho utilizzato una voce off, che racconta una fiction. Quindi, in guardando delle immagini di archività di Wesson, ho immaginato che sarebbe stata una vita se aveva vivere a Wesson. Ma l'idea di questo film è di raccontare la vita di questa isle, che si chiama anche l'Ile aux Femme, perché c'è un'Ile sulla quale non viva che dei femmes e dei enfants perché gli uomini erano tutti in mer. Per questo film, per il Camping du Lac, l'idea è stata di fare un po' il processo inverse, è a dire di utilizzare come pretexto una fiction, inspirata di una novela di Russell Banks, che si chiama Le Poisson, e di l'utilizare per filmare un luogo, che è il Camping du Lac, dove persone vivono a l'anno, quindi in un terreno di camping, in una regione di Francia molto particolare, la Bretagna, dove abbiamo delle tradizioni, una lingua, è una regione molto recolata di Francia, dove non ha di transport in common, dove non ha di densità di popolazione, e quindi, ho adaptato questa nuova a questo luogo, che è comunque molto diverso del Vietnam, che è l'endro a cui si passa la nuova di Russell Banks, il Vietnam dei anni 70, dei anni 70, in francese. La sua domanda mi diverte molto, perché quando mi occupavo quasi esclusivamente di arti plastiche, mi dicevano che ero molto narrativa, e quindi mi fa sorridere questa domanda, del resto è stata proprio questa mia inclinazione a spingermi a un certo punto a frequentare una scuola di cinema e di documentario, e a orientare proprio i miei studi verso il cinema. Questo film è prodotto con l'aiuto sostanzialmente del Centro Nazionale di Cinematografia Belga, e ha goduto del sostegno che normalmente viene concesso alle cosiddette produzioni leggere, ossia prevalentemente delle opere prime, dei film più sperimentali, film che non partono da una sceneggiatura di impianto classico, e sostanzialmente sono dei piccoli di film a budget contenuto. La base per la sceneggiatura in realtà si ricollega con i lavori che io avevo fatto precedentemente, questa appunto è un'opera prima, lavori che avevo fatto come artista plastica e come videoartista, e allora mi piaceva molto concentrare la mia attenzione su ritratti di persone, di luoghi e di comunità, e si ricollega anche a un mio film precedente, un mediometraggio che avevo realizzato, in cui c'è una sorta di voce narrante che descrive e racconta una storia, quindi una finzione, mentre scorrono delle immagini di archivio, di una realtà rurale, di queste donne che vivono con i figli, mentre gli uomini sono in mare. Qui invece ho fatto il processo assolutamente inverso, adattando una novella che si chiama Le Poissons, il pesce, ambientata nel caso appunto del testo scritto in Vietnam, e io invece ho scelto di trasporla in questo luogo preciso, che è questo campeggio in riva al lago, in una regione molto particolare della Francia, che è la Bretagna, è una regione ricca di tradizioni, di lingue, con una densità di popolazione molto scarsa. E appunto l'ho adattato anche rispetto al quadro temporale in cui è originariamente la novella, che sono gli anni 60 o 70, ma partendo appunto dalla realtà di un personaggio, del mio personaggio, che rimane in panne e decide di sostare in questo campeggio. Nel documentario creativo si dice che spesso ci sono due scritture, una scrittura a scrittura e una scrittura in fase di montaggio. Lei che cosa ha scritto in fase di scrittura e che cosa ha scritto in fase di montaggio? C'è un film che abbiamo scritto con la montaise qui s'appelle Julie Nass al montaggio, molto. De maniera generale, tutti i film se passano in fase di questa in fase. C'è a dire che quando arrivo in fase per tournare, io ne so ne so ne so che fare e io laissi in tutto caso molto di place aux accidents e aux surprises. E io ho tendo molto a cambiare d'avis durante il filmo in vedere qualcosa che non aveva prevato e in dicendo ora mi faccio il filmo di questo che il stato prevato quindi io l'ai lasciato molto di place all'imprévu a la surprise cependant per questo film io avrei una anno sulla quando ho scoperto il Camping du Lac con i moutoni, i bisogni, i indiani io mi sono detto che mi sono state facendo questa nuova di Russell Banks che avevo avuto da fare molto tempo, la faccio qui si sono state facendo la faccia con i ragazzi del terreno di camping che erano persone che avevano tutti envie di fare il cinema, anche se non avevano nulla a fare il cinema, e quindi io me sono, per un anno, io ho abito in Belgi, ma durante un anno Dès que j'ai eu Des petites vacances ou l'occasion De partir Je suis venue Dans ce terrain de camping Où j'ai loué un mobilhome Et où j'ai vécu avec les gens qui vivaient Dans ce terrain de camping Et donc c'est en les rencontrant Que J'ai commencé A adapter la nouvelle Et puis que finalement Le scénario s'est éloigné Très très fort de cette nouvelle J'ai laissé beaucoup de place à l'imprévu Quand j'ai amené L'été suivant une équipe De cinéma sur place Mais j'avais quand même Passé un an A me familiariser avec ces personnes Les mettre en confiance Et écrire avec eux Comment Des espèces de personnages Qui sont très inspirés De ce qu'ils sont réellement Dans la vraie vie Mais en les adaptant quand même A ce que serait leur vie Dans ce terrain de camping S'il y avait réellement Un monstre Ou une légende De poissons Dans le lac En réalité Aucun de ces personnages N'a Déjà La légende du poisson Dans le lac Est complètement fictive Même s'il y a beaucoup De légendes en Bretagne Celle-ci n'existe pas C'est plutôt des histoires De fées De corrigans D'elfes Etc Mais il n'y a pas D'histoire de poissons A part celle de Saint-Corentin Justement Qui est la La légende Liée à un poisson Que j'ai trouvé Sur place Mais mes personnages Ne sont pas catholiques A part le curé Le prêtre Que je suis allée chercher Dans l'église Du village Et les autres personnages Ne s'intéressent Absolument pas Au poisson A part les Deux Trois Pêcheurs Et encore Pour eux C'est un truc Du dimanche Donc en fait On a tous Ensemble Joué A faire comme S'il y avait Un poisson Mythique Dans le lac Alors qu'en réalité Il n'y en a pas Du tout Sì Il film In realtà E' stato scritto Prevalentemente Con Julie Haas Che è la montatrice Ed è stato scritto In fase di montaggio Io lavoro così Su tutti i miei I miei film Quando arrivo Sul posto Quando arrivo Nella location Non so bene Che cosa fare Ed è il motivo Per cui cerco Di dedicare Tempo E soprattutto Spazio Per farmi Sorprendere Dagli eventi Che possono accadere Dagli imprevisti E spesso Cambio anche idea Sulla base Di suggestioni Che mi Danno i luoghi O mi danno Le persone In realtà Per questo film Ho soggiornato Un intero anno In questo In questo Campeggio Iniziando appunto A frequentare Le persone Che ci lavorano E le persone Che vivono In modo Perché la mia Intenzione Era quello Proprio Di girare Insieme A loro Per cui Io che Normalmente Vivo In Belgio Per un anno Non appena Avevo del tempo Libero E delle vacanze Partivo E andavo In questo Campeggio Dove ho Sostanzialmente Affittato Un mobilhome Una roulotte Per vivere Insieme a loro Li ho incontrati E quando Li ho incontrati Ho iniziato A conoscerli Ho iniziato Anche Ad adattare La novella Il racconto Breve Distanziandomene Sempre di più E ricreando Una realtà Diversa Rispetto a quello Dell'ambientazione Della novella Stessa Una volta Poi che È arrivata La troupe Su quello Che sarebbe diventato Il set Naturalmente Io ero Avevo molto Familiarizzato Con i luoghi E con Con le persone Conquistandomi Anche La fiducia Dei Dei Locali E Il mio modo In qualche modo Di lavorare con loro È stato quello di dire Ispiratevi Alla vostra vita Reale Al vostro Quotidiano Ma Immaginate anche Come reagireste Nel caso Ci fosse La presenza Di questa specie Di creatura Leggendaria Di questo Mostro Nel Nel lago Perché Vero è Che Non esiste Nulla Di simile In In quella zona Al di là Del discorso Di Saint-Quentin Non c'è Un pesce Non c'è Questa figura Quasi Mitologica Del Del pesce Ci sono Delle credenze Che hanno a che vedere Con gli elfi Con Con le fate Ma Nulla Che abbia a che vedere Con Questa Creatura Mitologica Non sono Cattolici Ad eccezione Del Del curato E Sostanzialmente Non si occupano Neppure Di pesca Eccetto Due o tre Pescatori Locali Ci sono domande? Mi ha la mia La mia domanda riguarda Una scena Nello specifico Non che quella In cui Tutti gli abitanti Si radunano E fanno questa festa Ambientata In un momento Notturno Comunque E Dal mio punto di vista Questa scena Ha spezzato Il Il film La narrazione E Quindi la mia domanda È La scena È stata Ripresa Direttamente Dalla novella Oppure L'obiettivo Era quello Di Appunto Spezzare Volutamente La narrazione Per magari Renderla Non so Più leggera Oppure C'è dietro Un messaggio Che si voleva Veicolare Allo spettatore Grazie Vous parlez De la scena De Festnose La scena De Festnose Exact Alors Cette scena C'est Une scena Qui résume Bien Le processus Du film C'est à dire Que Bon moi J'avais un budget De 80 000 euros Pour faire le film Ce qui n'est vraiment Pas beaucoup Donc J'ai dû tourner En décor naturel Et utiliser Les événements Qui se passaient Pendant l'été Autour du camping Pour tourner mon film Et donc Dans la nouvelle Il y a un moment Où Les gens Arrivent De plus en plus Nombreux Pour voir le poisson Et le poisson Et le poisson Devient une espèce De nouveau dieu Qui est adulé Par toute une foule De pèlerins Et de touristes Et donc En Bretagne Je me suis dit Où est-ce que je vais pouvoir Trouver une foule En été Dans cet endroit-là Comme il n'y a pas Beaucoup de touristes En réalité Il y avait La plage Il y avait La fête du 14 juillet Qui est la fête nationale Où on fait toujours Un feu d'artifice Et puis Il y avait Les festenoses Qui sont des fêtes Avec des danses Traditionnelles Typiques Non pas de la Même pas de la région Mais du village C'est-à-dire que Chaque village A sa danse Et où tous les gens Se rassemblent Pour danser Cette danse traditionnelle Qu'on ne trouve que là Mais Comme cette fois-ci Je ne suis pas Dans un documentaire Dans une fiction J'ai changé la musique De cette scène Donc en fait On s'est incrusté Avec les gens De mon équipe Dans cette fête Avec les t-shirts Believe Donc les t-shirts Faits en hommage Au poisson Qui sont des accessoires Qu'on a faits Pour le film Et J'ai Détourné Le sens De cette fête En En Changeant la musique Et en mettant En créant Une chanson Pour Qui serait une chanson Avec des paroles D'adoration Du poisson Qui serait un petit peu Gli eventi Estivis Che avvenivano Intorno Intorno a Questo Campeggio Nel moment In cui Dovevo Mettere In scena Un numero Sempre crescente Di persone Che venivano A vedere Il pesce Che via via Diventa una Sorta di divinità Che è adulata Che è adulata Da tutti Avevo bisogno Di approfittare Di ricreare Una sorta Di folla Di turisti E pellegrini Ma in Bretagna Non c'è Una grande Presenza turistica D'estate Il numero È piuttosto Limitato Per cui Quello che ho fatto È stato Utilizzare L'immagine Di queste spiagge L'occasione Dei festeggiamenti Per il 14 luglio Appunto La festa nazionale Francese Dove normalmente Si fanno Spettacoli Di fuochi artificiali E Una festa Tradizionale Neanche della regione Ma specificamente Di quel villaggio Perché lì ogni villaggio Ha la sua festa Tradizionale Per appunto Dare l'impressione Di questo Di questa marea Di persone Che arrivavano Per adorare Il pesce E per poterlo fare Quello che io ho L'astuzia Che ho utilizzato È stato Modificare Sostanzialmente La musica Dare Creare Queste magliette Che sono appunto In omaggio Al pesce Che abbiamo fatto Realizzare E sostanzialmente Sovvertire Il significato Di questa festa Tradizionale Modificando la musica E modificando anche Il testo Della canzone Che diventa Una sorta di ode In omaggio Al pesce Ci sono altre domande? Due Facciamo prima lui? Buongiorno Ci sono stati Degli imprevisti Particolari Durante le riprese O qualche Aneddoto Di fatto Un po' Magico Che comunque Ha scaturito Della magia Intorno All'avorazione Al luogo Del film Degli imprevisti 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 che abbiamo trovato e che abbiamo rassemblato per questa scena finale io posso raccontare ancora un'altra anecdota ma il y eno a delle centenze il y avait in questo camping il personaggio di Anthony che in realtà non si chiama Anthony e che è giocato per un attore perché il vero Anthony è qualcuno che vive da piccola che non ha voglia che si vive lì c'è perché il non è tutto a fatto in règle e quindi ho accettato un attore di Belgia per giocare il suo lavoro è qualcuno che ha veramente un salon di tatuaggio nel camping e che tatua tutti i piccoli del camping e ho avuto ho avuto una scena dove si fa un tatuaggio a qualcuno e un tatuaggio di poisson e in fatto Johanne questa femme di 75 anni che si fa tatuare un poisson sull'uomo ho avuto ho avuto un triskel un triskel un triskel che è il symbole della Bretagna e lei mi dice e derriere j'ai envie di m'en fare fare un nuovo allora io ne sai pas qua io pensavo che pensavo che pensavo a una fleur o un poisson e io mi dice io ti offro il tatuaggio e in exchange tu me laisses filmer la scena e quindi questa scena a été tournata con il vero tatuatore che tatua un vero poisson su la vera peo di Johanne e un un actore che remplace il tatuatore su la scena dove il vero il vero il visage e io avevo dessinato des poissons che io trovavo molto joli ma il tatuatore non voleva le fare perché dice che sembrava un dessin di un figlio di 3 anni e che lui aveva dei poissons vachamente meglio e lei prefera un poisson più graffico e finalmente e poi è lei che portava il resto della vita quindi non ho potuto ne ho potuto quale allure le poisson e io l'ai laissé choisir di anni di anni ti ne ho a decine se non a centinaia e devo dire che ci sono stati sono avvenuti dei quasi miracoli durante le riprese uno è stato quello relativo alla scena in cui dovevamo girare San Quarantenne che ha il pesce che gli salta nelle mani per cui per poter girare questa scena avevamo pensato di simularla in qualche modo di utilizzare degli effetti particolari ma in realtà quello che è accaduto è che avevamo un pesce in un secchio di acqua relativamente tiepida ma nel momento in cui l'abbiamo messo nell'acqua ghiacciata il pesce è saltato spontaneamente nelle mani dell'attore dell'interprete quindi è stato veramente un miracolo l'altro miracolo che è accaduto è stato che la Bretagna è conosciuta per essere la regione più piovosa di tutta la Francia nell'estate del 2022 quando abbiamo girato noi si è registrato un affa e un caldo come mai prima d'ora nella storia con delle punte di 42 gradi e sostanzialmente il lago si è svuotato sotto i nostri occhi letteralmente quello è un lago artificiale che fino a poco tempo fa fino a prima di tutte le invenzioni tecnologiche ogni 15 anni veniva svuotato per poter verificare lo stato della chiusa e avevamo immaginato di utilizzare un green screen e delle immagini di archivio di questa operazione di questo svuotamento del lago visto che ora questa pratica non si fa più e in realtà con il pesce appunto che agonizza purtroppo per la siccità ma in realtà appunto non c'è stato bisogno perché i pesci hanno realmente agonizzato fuori dall'acqua perché c'è stata una siccità terribile che ha ucciso tanta parte della biodiversità e in realtà non è più stato necessario appunto utilizzare l'espediente ma abbiamo usato un ambiente naturale e io ho fatto costruire a quel punto un pesce lungo 6 metri un pesce finto per simulare questa questa scena che è un pupazzo con due persone che dentro gli danno il movimento lo fanno muovere e sostanzialmente appunto abbiamo girato in ambiente naturale l'altro miracolo o l'altra casualità che è accaduta è che su Anthony il personaggio di Anthony è interpretato da un attore perché il vero Anthony non voleva mostrare il suo viso vive un pochino di espedienti fa dei lavoretti ma soprattutto non ha tutti i documenti in regola quindi io avevo chiamato un attore belga per interpretare questo personaggio e il vero Anthony fa tatuaggi a tutti e anche a tantissimi oggetti nel campeggio fino al giorno in cui Joan questa donna di 75 anni ha deciso di farsi tatuare un pesce sulla schiena perché in realtà mi ha mostrato di avere già un tatuaggio con il simbolo grafico della Bretagna sul petto era indecisa se farsi tatuare un fiore o un pesce sulla schiena e a quel punto gli ho detto te lo pago io il tatuaggio a condizione che sia effettivamente un pesce e abbiamo girato tutte le sequenze del tatuaggio in tempo reale mentre Anthony glielo faceva e poi naturalmente quando lo stacco era sul viso era interpretato dall'attore io avevo proposto un disegno di pesce che però è stato scartato sia ad Anthony sia dalla diretta interessata che peraltro il tatuaggio se lo deve tenere tutta la vita volevano invece un disegno più grafico rispetto al mio giudicato come quello di un bambino di tre anni ci dobbiamo fermare mi dispiace molto perché so che c'erano altre domande e ne avevo anche io grazie Leonor grazie a tutti grazie a Anna Ribotta per la traduzione buon festival grazie a tutti buon festival grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti